Benvenuti a questa nuova puntata di MMA Toast Podcast, parafrasando una notte espressione del gergo attuale, finalmente una gioia per le MMA italiane con l'affermazione di Marvin Vettore al suo ritorno in azione sui UFC ai danni di Cesar Ferreira, un successo che finalmente ci voleva per noi appassionati di MMA e soprattutto del nostro addetti una affermazione che si inserisce all'interno di un contesto, di un evento, quello andato in scena a punto sacramento diciamo discreto con tante decisioni, qualche KO sparsa nella preliminary card, una card che si è infiammata nel finale con addirittura tre conclusioni prima del limite al primo round, le ultime due addirittura entro un minuto insomma le scintille che sono diventate delle vere e proprie fiammate verso la conclusione della card andata in scena in California non c'è stato solo gli UFC nel weekend, ci sono state anche un evento di Bellator, un evento di One andremo a parlarne nel finale, giusto qualche breve passaggio, citare il meglio appunto di questi eventi di un weekend molto ricco per le mixed martial arts e in generale i combat sports entriamo nel vivo appunto la puntata iniziando come sempre dalle presentazioni da questa parte del microfono Stefano e dall'altra Giovanni, ciao Giovanni ciao Stefano, salve a tutti gli ascoltatori non c'è fisicamente Gianluca ma sappiamo che si è messo d'accordo con Destiny Stranger Fix per intercettarci con il segnale, oltre a cantare nelle vere e nelle storie con Susi riuscirà a captare il nostro segnale e dirci la sua sui punti salienti dell'evento UFC quindi sentirete la voce di Gianluca anche in questa puntata sebbene non sia propriamente con noi entriamo come detto nel vivo Marvin Vettori conquista il successo dopo 400 giorni più di 400 giorni di stop dovuti in buona parte per la sospensione di Usada poi interrotta per l'assunzione di Ostarina battendo Cesar Ferrer con i cartelli 30-27, 30-27, 30-27 lo score che rende perfettamente l'ottima prestazione di Italian Dream che sostanzialmente ha controllato sostanzialmente ogni aspetto della contesa dall'inizio alla fine particolarmente impersonante insomma particolarmente di redievo il modo in cui ha diretto la contesa soprattutto in piedi portando sempre pressioni nei confronti del brasiliano e correndo relativi rischi di fronte alle risposte dello stesso nell'ambito dello striking giusto colpi di sinistro hanno in pensieri in parte in piedi vettori insieme ai calci alle gambe per il resto le migliori combinazioni e i colpi più significativi sono stati messi a segno da vettori che si è comportato anche nell'ambito del wrestling ha portato a segno diversi takedown ha parato i tentativi portati da Mutant e ottimano anche le brevi fasi di lotta a terra nella quale vettori appunto in particolare nel primo round dopo aver ottenuto un takedown ha scansato qualsiasi minaccia che potesse rappresentare se sa farere nell'ambito di partizione di jiu-jitsu mantenendo la top position e portando a segno alcuni colpi in grand and pound insomma Giovanni sentiremo il parere di Gianluca però ti volevo interpellare perché tu hai anche intervistato vettori si può dire sia stata questa la performance forse una delle migliori di vettori se non addirittura la migliore da quando è UFC guarda io ci ho parlato subito dopo due giorni dopo lui ci avevo parlato anche prima mi aveva detto che questo camp era stato il migliore che l'anno e mezzo di stop gli aveva fatto bene diciamo uno che ascolta può pensare anche che siano le solite cose che si dicano prima di un match però poi alla fine ha dimostrato ampiamente di aver ragione questa è sicuramente la sua miglior prova in UFC ha raggiunto definitivamente una maturità che gli consente adesso di accedere a quella che è la top 15 a mio avviso che dire dal punto di vista del ritmo mi ha sorpreso perché era una di quelle cose che gli si criticava di più il fatto magari di mettere buone energie nei primi due round e di spegnersi nel terzo già contro Israele Adesani e contro Mari Akhmedov lo avevamo visto invertire questa tendenza già contro Akhmedov e Adesani lo avevamo visto invertire questa tendenza contro Ferreira però la prestazione è stata ben diversa è stata una prestazione ai limiti della perfezione ecco vicina vicina alla perfezione una prestazione davvero completa di Marvin che ha palesato tutti i suoi miglioramenti dallo stand up dall'utilizzo del jeb alle combinazioni ai movimenti di busto e di testa fino ad arrivare poi a quello che è il suo punto forte il grappling è lì diciamo tutti noi avevamo meno dubbi sulla sua efficacia ma ha dimostrato di essere ancor più straripante contro uno come Ferreira perché Ferreira fa del jujitsu il suo punto forte è una cintura nera sa benissimo come muoversi a terra grazie al suo grappling comunque ha vinto anche match contro avversari più blasonati di lui quindi io direi che questa prova ribalta di nuovo dopo la situazione dopo la sconfitta con Adesani e pone ancora una volta vettori lì ai margini di quella fantomatica top 15 che sta cacciando ormai da molto tempo in UFC in questo momento adesso è a quota tre vittorie due sconfitte e un pareggio le sconfitte sono arrivate tutte sul filo del rasoio quindi secondo me Marvin ha dimostrato comunque di appartenere ad un livello che è superiore a quello degli avversari che ha battuto credo sia arrivato il momento per il nostro portabandiere di attentare finalmente a quella top 15 anche in virtù soprattutto in virtù del miglioramento poi netto all'interno della gabbia un ritmo davvero spaventoso secondo me Vettori è pronto per un match in top 15 ecco su questo aspetto e in generale sulla prestazione sentiamo che cosa ci vuole dire Gianluca sono stato come naturale che sia molto ben impressionato dalla prestazione di Marvin Vettori un Vettori che ha dimostrato ancora una volta di essere un fighter in grado di evolversi in grado di apportare delle migliorie tecniche veramente importanti al proprio stile in questo caso penso che le cose le cose migliori le abbia fatte evolvendo il proprio pugilato che abbiamo potuto apprezzare come insomma più solido anche più più preciso più veloce con un uso del jab più costante nonostante ci fosse la discrepanza di allungo e una capacità diciamo di gestire ritmo energie su tutte le tre riprese a livello di striking davvero abbiamo visto miglioramenti importanti che si aggiungono a tutte le qualità che abbiamo sempre ammirato di vettori cioè un ground game a tratti devastante che può sfidare qualsiasi jiu jitsu come ha confermato in questo caso anche un jiu jitsu stellare come quello di di ferreira e che è bravissimo diciamo impedire a questi fighter di trovare gli spiragli per per poter in qualche modo trovare le sottomissioni e poi la capacità di stabilizzare veramente di fare del male con ground and pound questa è la prova diciamo più più totale di vettori quella dove ha dimostrato di essere un fighter estremamente completo eclettico duttile capace di vincere di difendersi in qualsiasi sfera del combattimento e penso che oggi legittimamente debba puntare un top 15 non so io ho ipotizzato Antonio Carlos Junior che penso che vettori vorrebbe questa rivincita mi pare sia la posizione numero 13 quindi potrebbe essere un legittimo salto per vettori possono esserci tante altre opzioni difficilmente sarà quella di Paolo Costa visto che avrà un match con Romero a prescindere dal suo esito sarà difficile un salto così in alto per vettori io sinceramente poi preferisco che un percorso venga fatto in modo graduale però insomma le opzioni saranno tante quello che è certo è che vettori oggi legittimamente può davvero puntare in alto ecco Gianluca ha parlato della performance in termini positivi di vettori e ha commentato anche la call out rumorosa da parte di Italian Dream nei confronti di Costa prima di entrare su questo argomento di cui tu hai parlato appunto nell'intervista che hai pubblicato su Fox Sports direi di passare in rassegna un paio di domande che ci hanno fatto proprio sul match di vettori partiamo da quella di Francesco Bernardin che fa i complimenti ovviamente descrive l'ottima prestazione performance di Marvin e pone tra come unico appunto il numero di leg kicks incassati io aggiungerei a questo forse anche in alcuni momenti non essere riuscito a mirare di più il corpo con le sue combinazioni impuntandosi in alcuni tratti forse un po' troppo alla testa quando Mutante comunque stava ben parando ritornando alla domanda Francesco ci chiede secondo noi in quali aree dovrebbe lavorare Marvin per poter rambire alla top 10 top 15 e chi potrebbe essere il suo suo avversario lui cita come tanti alti Branson però ricordare che Branson ha già un match fissato al momento a meno di infortuni di quali potrebbe approfittare Marvin in questo momento Branson ha già un appuntamento fissato con Ian Einish il 17 agosto a UFC 241 quindi in linea di massima si dovrà pensare a un altro avversario e appunto ti chiedo Giovanni realisticamente chi potrebbe affrontare se non addirittura eventualmente Costa se dovesse perdere contro Romero perché se dovesse vincere è molto problema una title shot chi potrebbe affrontare Marvin a questo punto ma guarda io ti posso dire che Paolo Costa secondo me certo il sogno in questo momento effettivamente è molto in alta in classifica sta per sfidare quello che fondamentalmente è lo sfidante numero uno o due al titolo della corona dei pesi medi l'unica occasione in cui secondo me si potrebbe verificare questo match è se Paolo Costa perde male contro Romero Costa è già il numero sette scavalcare tutte quelle posizioni ad arrivare direttamente a lui è davvero difficile cioè è improbabile Branson è il numero 8 però come hai detto giustamente tu ha un match fissato con Ian Hainish che è il numero 10 realisticamente secondo me si potrebbero valutare un rematch contro Antonio Carlos Junior o un match eventualmente contro Brett Tavares sono tutti e due alla portata di Marvin in questo momento poi io penso un attimo quando gli ho chiesto quando gli ho fatto la domanda su Paolo Costa lui si è quasi impettito mi ha risposto in maniera sorpresa credete davvero che non possa farcele io a battere Paolo Costa è questo che pensate anche alla luce di questa prestazione per rispondere anche all'altra domanda di Francesco secondo me dovrebbe legare un po' meglio le fasi di pugilato e i calci inserendo come hai detto tu prima giustamente dei colpi al corpo dal punto di vista del grappling secondo me Marvin è assolutamente sulla scia giusta fa sparring con alcuni dei migliori lottatori di jiu-jitsu è allenato da Romulo Barral non parliamo certamente di ultimi arrivati che comunque ha dimostrato ampiamente di avere un livello altissimo nel grappling continuare ad allenarsi nello striking migliorare ancora come già sta facendo potrebbe davvero consacrarlo e consegnarlo alle parti alte della classifica ad oggi realisticamente vedo un match contro Tavares o contro Antonio Carlos Junior se gli dovessero sistemare un match contro Paolo Costa ben venga si arriverebbe sicuramente al match tanto desiderato poi io se guardo la classifica comunque dei pesi medi penso che guardando a Desani ad esempio che è al primo posto vedendo appunto avversari che lui ha già affrontato come Antonio Carlos Junior in top 15 li ha tutti e due affrontati in maniera egregia secondo me per quella che era la fase di crescita che aveva lui in quel momento quello che posso dire è che nella top 15 io vedo poche persone pochi atleti che realisticamente potrebbero imporsi in maniera decisiva sul vettore sul vettore di questo momento fermo restando che continua lui a migliorare avendo visto quello che lui è capace di fare secondo me potrebbe prendere buona parte della top 15 e offrire una buonissima prestazione quelli che restano concreti secondo me in ottica di realtà da parte di UFC sono Antonio Carlos Junior e Brett Tavares Mattia Morello ci pone una domanda diciamo ipotetica quasi da videogioco insomma ponendo insieme atleti italiani ma di due ere dell'MMA diverse anche se entrambi in attività nello specifico ci chiede come vedremo un match tra il miglior Sakara quello che andò contro Wildman e il vettore di oggi faccio un po' di fatica a rispondere a questa domanda ma non tanto per lo specifico ma per il fatto che confrontare atleti appunto di due epoche diverse anche se di elite nelle loro specifiche di etnità e nel carriere è molto difficile perché è uno sport in costante evoluzione diverso in un punto da quello che è in un altro detto questo però Giovanni mi affido a te come si può ipotizzare un eventuale andamento di un match fantasy match del genere allora pensiamo ad una cosa un attimo al fatto che la serata conta nel combattimento come ha giustamente sottolineato Mattia Morello nella domanda quella sera la sera contro Wildman Sakara è stato a tratti straordinario sicuramente ed è stata probabilmente la miglior serata della sua seconda parte di carriera allora potremmo magari paragonarlo a mettiamo a Marvin contro Cesar Ferreira che ha avuto sicuramente una delle prestazioni più brillanti io credo che dal punto di vista del fighter singolo Vettori sia più completo di quel Sakara sicuramente ci sono delle armi che Sakara probabilmente usava meglio e sicuramente questo è il pugilato il pugilato applicato alle MMA da parte di Sakara era veramente veramente mostruoso non so direi di dire a tratti in un periodo della sua carriera c'è da dire d'altro canto che il grappling di Marvin Vettori è altrettanto mostruoso quindi dove potrebbe finire un match del genere probabilmente a terra perché Marvin ha più carte da giocare perché Sakara non aveva quella difesa da takedown spaventosa per arginare uno come vettori secondo me c'è da dire anche che i match partono in piedi e potrebbe arrivare un colpo il colpo giusto da parte del legionario è appunto un fantasy matchup che è quasi impossibile da definire dipende dall'area del combattimento ecco se stardendosi in piedi magari potrebbe avere la meglio un Sakara di quel periodo però Marvin abbiamo visto che ha il mento davvero davvero duro ha preso delle savarnate incredibili nel match contro Mario Akmedov tanti altri atleti sarebbero andati a terra lui non ha battuto Giglio è veramente incredibile la resistenza ai colpi che può avere ma anche mi ricordo i circolari presi da Antonio Carlos Junior secondo me Marvin è leggermente più duro del miglior Sakara in questo momento quindi questo è quello che penso poi i match non li vincere per forza in qualunque momento il fighter più forte lo sappiamo bene dipendono da una miriade di fattori diversi però questo è quello che penso questa è una contesa che si potrà dirimere solo con qualche videogioco da UFC creare i due fighter e eventualmente vedere come andrà a finire una contesa invece che si è sviluppata nella realtà ma per pochissimo tempo appena 16 secondi è stato appunto il main event di UFC Sacramento la contesa a Women's Bantawait tra Germain D'Arendemi e Aspen Lad con la vittoria dell'atleta olandese per TKO sostanzialmente al primo vero ingaggio tra le due che nelle fasi iniziali nei pochissimi secondi precedenti alla conclusione cercavano di prendere le misure con i rispettivi Jeb al primo vero tentativo al primo vero ingaggio Germain D'Arendemi piazza un destro che mette in knockdown Aspen Lad Aspen Lad cade sostanzialmente con il volto rivolto verso il basso un indizio che induce Erdine a avvicinarsi subito per interrompere l'incontro non lo fa subito immediatamente ma appena Germain D'Arendemi si avvicina a Aspen Lad che nel frattempo era rivolta con la schiena rispetto all'avversario per girare si stava girando per eventualmente rispondere in apparente comunque coscienza seppur rimanendo stortita dal colpo prima che la Germain D'Arendemi vada a segno con un altro sinistro a terra Erdine sostanzialmente la blocca la impedisce di coprire in match è difficile valutare questa situazione che superficialmente e forse sostanzialmente in maniera giusta può essere valutata come un early stoppage senza però tenere conto di quello che è successo nel weigh-in in particolare ad Aspen Lad che si è presentata alla bilancia in condizioni davvero tragiche se non l'avete visto vi invito insomma a fare una googolata o andare su YouTube lo troverete sicuramente Aspen Lad che trema sostanzialmente per gli effetti di un duro weight cut che insomma l'ha sempre fatto soffrire a 135 libbre e fa veramente tanta fatica molto sofferente per raggiungere il peso che poi raggiunge però insomma delle immagini che hanno fatto impressione e oltre a suscitare il solito dibattito sui limiti e sui relativi pregi del taglio del peso soprattutto portato alle estreme conseguenze insomma ha affrontato anche magari ha indotto lo stesso Avdine a valutare questo che poteva sembrare un semplice knockdown come un colpo potenzialmente letale ovviamente non in maniera mortale per fortuna però praticamente letale per le condizioni di salute dell'Ad portando quindi a uno stoppage che tenendo conto dell'intera situazione anche se l'abito non ha il compito di correggere gli eventuali errori delle commissioni atletiche che non hanno valutato quelle condizioni con le quali l'Ad si è presentata al peso come determinante per valutare lo svolgimento della contesa o meno però di fatto probabilmente nella testa di Erdine c'erano appunto queste immagini e questo forse l'ha indotto ad avere maggiore precauzione rispetto ad altri casi anche se lo stesso Erdine insomma negli ultimi tempi negli ultimi anni non è stato estraneo alle polemiche per alcuni dei suoi interventi arbitrali Giovanni direi forse di trattare più questo aspetto perché di fatto d'incontro c'è veramente poco di cui parlare come la pensi tu come l'hai vista questa situazione e eventualmente come la valuti? ma secondo me non è stato lo stop più scandaloso di Erdine semplicemente ha atteso di vedere il danno che aveva potuto fare quel colpo dopo che De Randamy si è avvicinata facendo seguire il colpo in ground and pound che effettivamente non raggiunge la LAD però può spegnerle le luci definitivamente la LAD sembrava non essersi accorta nemmeno che la RANDamy fosse pronta lì a colpirla e Erdine è intervenuto cioè quello che inizialmente viene valutato come un knockdown viene valutato subito dopo come un knockout cioè come diciamo un istante prolungato in cui la LAD non ha conoscenza secondo me è molto sottile la differenza che passa fra un knockdown e un knockout perché tante volte un knockdown ti lascia con gli occhi aperti però tu sei essenzialmente spento quindi in quel momento come fai a dire che uno stop può essere sbagliato il colpo c'è stato è stato chiaro è stato netto la testa della LAD è andata da un lato il corpo è andato dall'altro è caduta sulle proprie ginocchia anche lì si può dare secondo me il knockout cioè ci sono casi in cui anche lì si può dare il knockout a mio avviso non ci ho visto niente di assolutamente scandaloso è vero che la LAD subito dopo si riprende ed è pronta a continuare però ecco quell'attimo quell'istante prolungato in cui è out c'è quindi lì come valutiamo eticamente il lavoro dell'arbitro deve fermare deve guardare per prima cosa la salute degli atleti e quindi può tendenzialmente dare il knockout è una situazione leggermente diversa da quella di Robby Lawler perché secondo me è lì davvero per un istante Robby Lawler manca però quando Herb Dean lo va a chiedere Robby Lawler è di nuovo lì quindi magari lì è un eccesso di preoccupazione anche se è il momento che ti cambia magari l'esito del match capito? se l'arbitro intuisce che il momento che lui va ad analizzare vede il fight che è fuori combattimento è giusto che fermi il match è facile additare gli arbitri in questi casi però sono umani anche loro e le percezioni umane in quel momento sono intuitive dicono quello che poi l'arbitro va a decidere quindi in questo caso secondo me non è stata una scelta troppo avventata vogliamo sentire cosa pensa di questo match Gianluca? Sentiamo Gianluca Sì sul KO devastante di Derandami non c'è moltissimo da dire tranne il fatto che veramente fra le due c'era una differenza di allungo ma proprio fisica troppo notevole mettiamoci in più la potenza da KO devastante che ha questa fighter e l'esito è stato secondo me fondamentalmente quello che era più prevedibile ecco Derandami comunque conferma davvero di avere mani in mani incredibilmente pesanti ma anche di essere tecnicamente molto valida perché l'esecuzione di quel diretto a mio parere è ottima Perfetto complimenti insomma per la prestazione di una fighter che quando in UFC vuoi per quello che succede in gabbia vuoi per le sue decisioni fuori dalla gabbia è sempre coinvolta in maniera tangenziale dalle controversie ricordiamo insomma la contesa contro l'Iolm con quel colpo dopo la campana con la decisione un po' discussa il fatto che lì sia stata ritirata dalla cintura per essersi rifiutata di difendere contro Cyborg e ora in questo episodio veramente The Run The Run non riesce ad avere una carriera particolarmente lineare nella UFC Giovanni ti chiedo a questo punto rimatch contro Nunes sembra la soluzione ideale per l'olandese beh c'è da dire che la The Run riesce a combattere tra un peso e l'altro proprio come fa la Nunes riesce un po' a vincere qui a vincere lì ne vince e ne perde però è sicuramente una top fighter nella categoria dei Bantam adesso in questo momento è la sfidante numero uno giustamente potrebbe puntare a sfidare la Nunes in un rimatch certo non ha più tanti tanti avversari non so Giuliana Pegna magari che si è imposta su Nicco Montagno come la vedresti come vedresti un match del genere in questo momento non so se la Pegna forse a questo punto dato il lungo stop e data anche la performance diciamo per due terzi buona però con un po' di ruggine addosso possa essere insomma possa essere l'avversario ideale per la The Run e mi credo che la The Run comunque merita effettivamente una chance al top insomma non so se la Pegna forse deve ancora fare un po' di strada non saprei beh in realtà c'è da dire effettivamente che in questa categoria di peso non sono rimaste più molte sfidanti per la Nunez è quella che invece ha l'unica parte ultima parte di carriera positiva per ambire appunto a quel titolo è proprio lei la The Run quindi se deve essere lei che ben venga non credo abbia molte possibilità contro la Nunez però effettivamente pare essere l'unica meritevole in questo momento esattamente quello è quello c'è e quello dobbiamo far girare eventualmente poi la Nunez ha ancora forse un match in canna ancora con Cyborg se dovesse vincere contro Felicia Spencer e poi non c'è altro oppure come diceva Gianluca ogni sei mesi una sfida con la Sefchenko e se la giocano di loro e si fanno una categoria a parte chi invece fa parte di una categoria che è a parte rispetto all'arte per la quantità enorme di talenti e nella quale ha fatto rientro un glorioso rientro dopo tanto tempo fuori dalla gabbia è Uriah Faber beniamino del pubblico di casa che torna in azione nello stesso nella stessa città Sacramento nella quale aveva lasciato Fuantini per quella che sembrava l'ultima volta nell'ottagono dopo aver battuto per pick e per decisione gli rindossa sempre nella stessa città nelle città di riferimento per i California Men perché California Kid a questo punto mi sembra un po' alla veneranda età mi sembra un po' eccessivo a meno che sia un italiano o un giapponese però effettivamente riporta indietro nel lancetto del tempo con l'emergente molto più giovane Ricky Simon buttandolo giù e stendendolo per TKO dopo 46 secondi nel primo round sostanzialmente Ricky Simon parte alla ricerca assunto della conclusione immediata comunque per vendirizzare velocemente il match in suo favore all'assalto del più noto fighter ex campione WEC Faber con grande esperienza e una discreta forma fisica tutto sommato data l'età data comunque la lontananza dalla competizione anche se sicuramente insomma anche da trainer si è tenuto allenato in questi anni evita il peggio comunque non corre particolarmente particolare rischio contro Simon e alla prima occasione stabilisce insomma il destro soprattutto a segno per Ricky Simon e appunto di destro precisamente con un gancio stende il canadese che vedendo appunto la contesa anzitempo per la gioia appunto del pubblico locale in assoluto delirio già per altri match di cui in precedenza con altri fighter dell'Alfa Male e in trionfo di cui andremo a parlare a breve rimanendo su Faber sentiamo cosa ne pensa Gianluca della performance appunto del figlio della California beh Simone è partito iperaggressivo forse voleva voleva fare una grande impressione contro una leggenda sai sono match che possono elevare molto e magari a volte il livello del contendente non è più all'altezza della fama che si porta dietro forse a questa è stata dovuta l'iperaggressività di Simone però Faber era il 45esimo match da professionista che faceva moltissimi dei quali al massimo livello e con la sua esperienza il suo tasso tecnico ha usato l'eccessiva aggressività di Simone a suo vantaggio lo ha incrociato con un gancio destro mi pare da lì poi ha chiuso facilmente in ground and pound secondo me è la dimostrazione che a volte l'esperienza e l'intelligenza in un ottagono valgono di più della foga agonistica che si portava Simone insomma abbiamo sentito il parere di Gianluca sulla straordinaria straordinaria ritorno di Faber che è il primo fighter entrato nella Hall of Fame a ottenere una vittoria dopo appunto essere entrato nella Hall of Fame e per Faber questa è stata la prima vittoria per il knockout dall'ottobre del 2006 quindi 28 incontri di mezzo e in particolare è stata la vittoria più veloce 46 secondi la vittoria più veloce nella sua carriera quindi insomma non poteva esserci ritorno all'azione migliore per Oralio Faber e Giovanni ti pongo la domanda che ha già acceso un grande dibattito su Twitter sui vari canali di discussione dei fan gli diamo questa chance contro Seudo che ricordiamo lo aveva già chiamato al termine della sua difesa della sua vittoria contro Moraes oppure preferiresti che Seudo seguisse l'ordine meritocratico delle difese quindi eventualmente difesa contro Benavidez a Flyweight difesa contro un Algemin Sterling eventualmente un Piotr Jan a Bantawait e poi eventualmente Faber e Faber che si occupa di altro eventualmente contro chi lo manderesti in attesa di Seudo Eh vedi questa è una domanda difficile anche perché ritorno migliore per Raya Faber non avrebbe potuto esserci ha messo su una delle sue prestazioni migliori ha anche mangiato diversi colpi c'è da dire che Simon inizialmente mi sembra con un gancio lo abbia raggiunto particolarmente duro a lui sono tremate un attimino le gambe ma si è ripreso praticamente subito e ha messo su comunque una clinica più che una clinica anzi un single shot davvero irripetibile con quasi un overhand praticamente arrivato alla tempia di Simon e l'ho messo giù da manuale ecco questo volevo dire più che è più che clinico nel colpo in questo senso è stato perfetto che cosa dire se Udo a me piacerebbe sempre che loro difendessero in linea gerarchica il titolo però esiste questa fantomatica cosa dei super fight Uriah Faber ha 40 anni e sembra essere in un momento davvero di grazia potrebbe essere il match giusto per il pubblico ma io credo che sempre difendere la cintura appunto come hai detto tu contro Ian eventualmente contro Benavidez l'altra sarebbe più corretto in questo caso per Faber io credo che ci sia soltanto l'imbarazzo della scelta perché sicuramente in quelle categorie di peso non mancano gli avversari poi comunque lui a Bantam potrebbe benissimo affrontare avversari che ha già affrontato ad esempio Dominic Cruz se dovesse eventualmente rientrare che da una vita ha segnato come numero 6 del ranking ecco se vogliamo un ennesimo rimatch fra vecchie glorie questo potrebbe avere il sapore del classico e comunque dimostrare ancora che i due sono due atleti di primo ordine oppure vedrei bene anche un rimatch contro Jimmy Rivera che lo ha battuto appena prima del suo match di ritiro eventualmente per Faber qui potrebbe essere un giusto match d'attesa per eventualmente affrontare poi in un super match è riseguto però mi sembrerebbe davvero un po' troppo mi sembrerebbe una cosa all'Adden Anderson dargli il match contro il campione di categoria considerando che è rientrato adesso ed è solo numero 14 dai ranking alla carriera magari glielo si potrebbe dare è un Hall of Famer di tutto rispetto e comunque fautore di tutti i record che hai menzionato prima però io preferisco sempre si difenda la cintura in linea gerarchica ecco la cosa particolare giusto per dire come questo sport sia in certi aspetti ciclico come la storia si ripeta storia può essere gloria può anche essere farsa in questo periodo nella successione di retro show che stiamo pubblicando si è arrivato al periodo nel quale GSP era stato annunciato come avversario di Bisping e anche all'epoca insomma c'era questo dibattito sul fatto che Bisping che non avrebbe difeso il titolo contro gli allora contendenti naturali appunto come Joel Romero o Ronaldo Sousa sarebbe invece andato contro il rientrante GSP peraltro in una categoria non sua perlomeno a livello storico e con tutti i rischi del caso che poi si sono verificati cioè del fatto che se un fighter fuori dallo sport a lungo dovesse vincere un titolo poi c'è la possibilità che questo titolo non venga difeso e di fatto poi questo con GSP è accaduto per tutta una serie di motivi è una situazione per certi aspetti diversi perché GSP non è Faber qui è una superstar Faber è una star forse con un impatto minore ma una situazione abbastanza simile per tutto il resto ed è anche una situazione simile per il fatto che Faber appunto come ricordato tu per l'età ha una finestra abbastanza ridotta cioè non si può neanche pensare che Faber possa disputare 4-5 match perché probabilmente 4-5 match non ce li ha in corpo anche se lui molto probabilmente li prenderebbe molto volentieri ma di fatto la sua finestra probabilmente si ripotrebbe ridurre ad altri uno o due match e eventualmente se la soluzione verso la quale molto probabilmente si andrà prevedo sarà quella appunto del match tra Faber e Seudo l'opzione Cruz sarebbe effettivamente quella un pochino più interessante perché comunque metterebbe di fronte due fighter sì va bene che Faber è tornato però 46 secondi sono relativamente pochi sarebbe un secondo match sarebbe quasi un ritorno perché 46 secondi non sono un ritorno in azione insomma sono veramente pochi minuti per valutare se un fighter sia veramente pronto per riaffrontare una contesa lunga se non dico proprio su 15 minuti o comunque per un tot di minuti nelle Mixed Martial Arts metterlo di fronte a un fighter come Cruz che deve fare questo suo ritorno sarebbe quasi una sfida naturale e riattizzerebbe quella rivalità che ha lanciato ancora prima ma è so pinta ma è so pinta e che di fatto comunque storicamente sia a livello diciamo di impatto culturale per così dire sia a livello di business ha lanciato le categorie inferiori nel Mixed Martial Arts come prima di McGregor perché sostanzialmente se non fosse stato per WEC come promotion e per Faber contro Cruz come rivalità le categorie inferiori non sarebbero state viste non sono state viste per molto tempo prima di loro come delle categorie interessanti in tutti gli aspetti delle Mixed Martial Arts non tanto tecnici ma soprattutto di business interessanti come quelle maggiori insomma sarebbe veramente interessante vedere Faber Cruz di nuovo però sì sì mi verrebbe da dire che praticamente Dominic Cruz è il team alfa male Hunter un po' come Sakurab era il Gracie Hunter praticamente loro da dieci anni a questa parte hanno davvero rilanciato le categorie inferiori fondamentalmente Cruz e Faber Faber è sempre stato il campione senza cintura Cruz è stato il campione con la cintura Faber prima di Frankie Edgar se non erro non aveva mai perso un match che non fosse stato per il titolo quindi comunque un re senza corona all'interno di determinate categorie in particolare di quella dei Pesigallo hanno acceso sicuramente hanno monopolizzato l'attenzione del mondo delle MMA sulle categorie più basse da dieci anni a questa parte Faber è un Hall of Famer di tutto rispetto e che merita assolutamente quella posizione quindi ti dico assolutamente sì è un classico senza tempo che io non credo in molti rifiuterebbero di rivedere viste anche le condizioni in cui si è presentato Faber e le condizioni in cui si presenta ogni volta nell'ottagono Dominic Cruz eh sì vedremo appunto questa sicuramente insomma sarà una delle storie delle storyline più interessanti da seguire nei prossimi mesi io mi auguro insomma con questa variabile di Cruz che renderebbe tutto più interessante rispetto a quello che molto probabilmente sarà lo scenario che si delenerà appunto la sfida tra Faber e Seudo comunque a 2020 inoltrato perché appunto ricordiamo che Seudo insomma ha aggiustato insomma alcuni problemi fisici con alcune operazioni quindi non sarà disponibile entro la fine dell'anno un altro fighter nella card che ha elettrizzato anche per la sua associazione appunto col team ma che ci ha messo un pochino più di tempo precisamente 4 minuti e 25 secondi per chiudere la contesa anche lui per TKL in primo round è Josh Emmett che ha sconfitto in maniera rumorosa Mirsad Betic Emmett che inizialmente ha insieme al suo avversario ha cercato insomma di prendere le misure del suo rivale nell'ambito dello striking alcuni tentativi insomma di vaghi tentativi di affondo da una parte dall'altra Betic poco intenzionato insomma a spostare la contesa a terra a voler trovare il confronto con Josh Emmett Josh Emmett che però di fatto col passare dei minuti ha cominciato a punirlo con tantissimi jab molto forti con la mano sinistra e appunto un jab uno di questi jab di sinistro particolarmente forte è stato sufficiente per finirlo sostanzialmente per spegnergli le luci poi ovviamente altri colpi una gomitata e altri attacchi in guard and pound hanno di fatto chiuso l'opera il capolavoro potremmo definire di Josh Emmett che si conferma in questa categoria featherweight un fighter di una potenza impressionante Giovanni ma assolutamente sì ma poi dopo il crollo contro Jeremy Stephens io credevo che gli servisse un po' più di tempo riprendersi all'interno della gabbia ma lui è comunque un cacciatore nato come lo chiamerebbero gli americani un natural bone killer praticamente è un fighter molto istintivo tecnicamente molto molto pulito che fa di quel pugilato e dei movimenti le sue carte migliori se vogliamo ha messo a segno un KO più alla Mirsad Betkic non so perché mi vorrebbe da dire così visto per movimenti per affondo con quel jab mi è piaciuta molto la sua prestazione anche perché ha resistito a dei momenti che potevano rivelarsi più duri di quello che poi alla fine in realtà sono stati perché Betkic comunque è un fighter è un aggressore è un fighter che mira sempre a livello del corpo a livello della testa cambia molto i colpi riesce a trovare delle angolazioni che generalmente non tutti i fighter riescono a trovare un match veramente insidioso per Emmett che invece si è dimostrato davvero degno di questo livello e si è ripreso alla grande si è già ripreso dopo Jeremy Stephens contro Michael Johnson però questo contro Mirsad Betkic secondo me è un punto esclamativo che lo rimanda decisamente ai piani alti della classifica e questa performance assolutamente impressionante ha tirato l'interesse e non poteva essere altrimenti anche di Gianluca sentiamo cosa ci dice appunto sul fighter del team Alpha Male vai Gian mi ha un po' sorpreso il fatto che Betkic non abbia mai tentato neanche di metterla sul grappling è vero che Emmett sicuramente difende difende bene l'atterramento Betkic si sentiva a suo agio nelle fasi di striking devo dire fino a che non ha preso il knockdown con quel colpo di incontro il match sembrava abbastanza equilibrato però il fighter più pericoloso in quelle fasi era sicuramente Emmett infatti al primo spiraglio ha fatto valere il peso enorme dei suoi colpi Emmett è veramente un fighter molto molto pericoloso non sarà il fighter magari più più talentuoso di quella categoria però un fighter che secondo me molti preferirebbero evitare Betkic dimostra purtroppo di avere un in parte forse anche una mascella non così granitica come era accaduto appunto nella sua sconfitta precedente contro Darren Elkins dall'altra probabilmente uno striker buono ma non di altissimo livello e non sempre riesce a sa di poter imporre il proprio il proprio ground game quindi Betkic viene un po' ridimensionato da questa sconfitta non voglio dire che potrebbe essere il nuovo Sirkunov Betkic è forte però forse ci si aspettava qualcosina in più da parte sua Emmett oltre al KO è stato bravo proprio a insistere e anche dal ground and pound ha messo a un certo punto un montante che ha fatto quasi saltare Betkic è impressionante la forza che ha che ha Emmett è stata comunque un'ottima prestazione sua perché anche nel primo round è vero che non stava facendo niente di straordinario ma si stava difendendo in modo veramente perfetto e poi con quel colpo diciamo è stato risolutore beh tutto abbastanza condivisibile insomma la considerazione su un Josh Emmett ti chiedo insomma in coda invece Betkic per un po' di tempo sembrava un fighter che potesse dire la sua in questa categoria è incappato invece in un periodo particolarmente negativo in realtà veniva da due vittorie una contro Godolfo Pepe e una contro Riccardo Lamas che parevano averlo rilanciato dopo quella sconfitta clamorosa subita contro Darren Ekens di cui andremo a parlare dopo questo KO invece lo riporta indietro di diversi passi insomma soprattutto tenendo conto di questa mandibola che pare particolarmente debole per lui ha perso tre posizioni in classifica ufficialmente ma secondo me Betkic è ancora uno di quelli che può scalare le classifiche si è dimostrata più che altro non perfetta la sua mandibola specialmente nelle battute poi più avanzate dell'incontro perché all'inizio sembra assorbire davvero bene i colpi la sensazione è quella che quando comincia a perdere un po' di lucidità senta in maniera molto più decisa i colpi che subisce quindi non so io in questo momento magari mi diranno che gli voglio male però lo vedrei molto volentieri contro un Arnold Allen per stabilire il suo livello e per vedere se è giusto rimandarlo magari di nuovo ai limiti della top 10 e ritentare una scalata questo è il match che mi piacerebbe vedere contro Arnold Allen lo vedrei davvero bene e questa non sarebbe una cattiva sfida tenendo conto che la necessità da parte di Allen di costruirsi ancora insomma un percorso UFC con vari nomi l'ultimo l'ha affrontato Gilberman Landess insomma questo Gilberman Landess ormai l'ombra di se stesso è relativamente poco da dire insomma a livello di impatto sul resume per così dire sul curriculum vitae un betkic pur venendo a questa due sconfitta può essere un altro test interessante per i fight inglesi di cui abbiamo parlato insomma qualche settimana fa nella main card voglio commentare brevemente l'altra decision una split in questo caso che ha premiato Carl Robertson contro Wellington Turman insomma Robertson altro fighter proveniente insomma dalla cucina per così dire del Dana White Contender Series un po' la scampata come appunto i cartoni dei giudici attestano 28-29 29-28 29-28 in particolare ciò che lo ha messo più in difficoltà è stata l'abilità di Turman di portarlo più volte a terra di innescare delle buone fasi in scramble nel grappling appunto per Wellington fighter di origine brasiliana che in alcuni momenti in particolare nel terzo round è andato vicino alla conclusione per una rear naked choke merito per Carl Robertson che si è dimostrato il fighter migliore dal punto di vista dello striking è stato quello appunto di riuscire quasi svegliandosi in certi momenti da un certo torpore a rovesciare eventuali situazioni a scampare da quelle più pericolose è un test superato però proprio al limite rimandato probabilmente alla fine dell'anno secondo le tempistiche o l'autunno e sarebbe magari interessante vederlo un match che è stato ipotizzato da vari siti di MMA un eventuale matchmaking vederlo contro Kevin Holland insomma che noi ricordiamo molto bene purtroppo appunto per quello che è successo contro Di Chirico sfida tra l'altro appunto con un altro fighter del Dana White Contender Series e lì eventualmente Robertson e allo stesso tempo Holland possono scannarsi per così dire e dimostrare chi possa essere effettivamente un player nella middleweight division di ribazzare a questo punto alla preliminary card che ci ha fatto vedere fighter di varie stazioni di alcuni insomma rientro dopo tanto tempo abbiamo citata prima Giuseppe forse l'NVP se non altro per come ha concluso il match appunto anche lui prima del tempo della preliminary card è stato un altro fighter del team Alpha Male un trionfo insomma per questo team nella serata di sacramento parliamo di Andre Philly che porta a casa la vittoria per KO dopo 3 minuti e 7 secondi nel primo round contro Shane Moraes Moraes che tutto sommato non parte malissimo nella contesa stabilisce insomma diversi attacchi soprattutto con i suoi pericolosi calci all'interno e all'esterno delle gambe che cominciano a far sentire soprattutto lasciano soprattutto dei segni sulle gambe di Philly un Philly però che di fatto comunque non perde lucidità fisica e mentale di fronte alle sfuriate di Moraes gestisce bene le combinazioni di punti le prime combinazioni di punti messe segno sempre dallo stesso Moraes e al primo tentativo insomma il primo high kick indirizza subito la contesa in proprio favore e con una combinazione di un diretto destro un altro calcio alto e un gancio destro chiude definitivamente i giochi e continua a vincere dopo il successo aggiunge un'altra vittoria dopo l'affermazione del scorso febbraio contro Maes Giuri questa volta insomma con un KO bello da vedere e Giovanni che non è assolutamente male insomma per lo sviluppo della sua carriera nella fata white division ma lui è sempre stato un buon talento io già lo ricordo contro Max Holloway praticamente una vita fa ormai UFC 172 poi da lì la sua carriera ha alternato in alti e bassi senza infamia nell'ode quando ha incontrato gli avversari un po' più duri magari ci ha perso migliorando sempre perché comunque è sempre migliorato c'è poco da dire su questo e riuscendo a inanellare adesso quattro vittorie negli ultimi cinque match il che è un risultato abbastanza importante già contro Maes Giuri secondo me partiva stilisticamente sfavorita ed è riuscito a ribaltare i pronostici questo da poco contro Seymour Moraes comunque gli consente di essere sotto la lente di ingrandimento di UFC che magari potrebbe considerare un match non direi da nome perché lui ce li ha già avuti i match da nomi è arrivato ai punti ad esempio UFC 214 contro Calvin Cattara che in questo momento è in top 15 ha battuto poi successivamente Artem Lobov e Denis Bermudez e poi ha perso i punti contro Michael Johnson che comunque è sempre stato un fighter da top 15 quando più in alto quando più in basso quindi secondo me il livello di fili è quello è molto spettacolare da vedere può meritare un match anche in top 15 anche lui perché no un altro nome che so appunto per quello che ci siamo detti prima fuori puntata che ti ha impressionato è stato e ha impressionato anche me per qualche conta è stata Brianna Van Buren che veniva da Invicta dopo aver vinto in particolare un torneo tutto in una notte per diventare campionessa della promotion femminile nella categoria store weight si trova di fronte un'ex campionessa sempre di Invicta in Livia Renata Sousa avversaria diciamo maggiormente quotata per durata della carriera esperienza e anche per le quote di Las Vegas parte da sfavorita in questo scenario e invece trionfa con una decisione unanime 30-27 30-27 30-27 assolutamente meritata Brianna Van Buren che davvero a parte alcuni momenti e alcuni istanti soprattutto nell'ambito dei takedown non lascia sostanzialmente scampo non permette mai a Livia Renata Sousa di accendersi con i migliori aspetti del suo game riesce sempre a portare bene la pressione non corre mai troppi rischi dimostra una maturità in una performance veramente molto importante è stata una delle sorprese per certi aspetti di questa carriera assolutamente sì una prestazione veramente mostruosa di solito era la Sousa che imponeva il proprio ritmo alle sue avversarie sempre o quasi sempre comunque riusciva a sottometterle riusciva a metterle KO quando vinceva i punti si imponeva in maniera netta non è mai sembrata una fighter che potesse essere surclassata dal punto di vista del ritmo quanto potesse incappare ad esempio in un KO proprio imponendo quel tipo di ritmo invece questa volta contro una una fighter che ha fatto praticamente dell'eliminazione delle distanze non del taglio dell'eliminazione nette perché comunque colpiva dalla prima distanza dalla più breve quando riusciva a legare in clinch colpiva anche dal clinch di queste cose ha fatto il suo game plan che ha avuto estremo successo e si è imposta in maniera netta sulla Sousa quindi brava Brianna Van Buren non vediamo l'ora sicuramente di rivederla in scena tra l'altro in una delle categorie store weight appunto forse la più ricca in tutto lo scenario femminile in UFC e non solo in UFC quindi tante varietà di avversarie sia a livello appunto stilistico numerico occasioni insomma per testarsi ulteriormente non le mancheranno sicuramente io scommetto che appunto tra me c'è la preliminary card uno di quelli che in maniera forse anche un po' strana e particolare ti è piaciuto di più è la contesa tra Ryan Hall ed Aaron Elkins è vero o non è vero? è verissimo assolutamente vero Ryan Hall continua ad evolversi in maniera totale dall'essere praticamente soltanto fra virgolette soltanto un mago del jiu jitsu ed imporre a BJ Penn la prima sconfitta in carriera per sottomissione anche se l'ombra del BJ Penn che tutti conosciamo a parte quello è cresciuto tantissimo in termini di striking e in termini di movimento all'interno dell'ottagono cioè riesce a muoversi in maniera egregia riesce a legare il suo grappling alla fase di stand-up allo striking comunque in maniera eccezionale quando si lancia sulle gambe dell'avversario per poi tornare immediatamente in piedi camminare e girare lateralmente non necessita di una guardia alta perché riesce a cambiare livello in maniera davvero immediata anzi probabilmente proprio quell'assenza di guardia netta serve a fargli comprendere meglio i movimenti che deve fare il suo corpo per stare bene per imporsi all'interno dell'ottagono secondo me Ryan Hall entra in maniera corretta anzi forse con un po' di ritardo nella top 15 il suo livello non è nemmeno questo contro Darren Elkins il suo livello è ben più alto non ha rischiato nulla non ha mai davvero rischiato contro Elkins è vero che Elkins è davvero probabilmente agli sgoccioli della propria carriera però Hall si è confermato davvero un mago The Wizard come dice il suo soprannome merita sicuramente dei match molto più in alto di così considerando anche comunque a 34 anni non so quanto avrà ancora da offrire in questo momento il suo fisico sembra integro i suoi ritmi sembrano molto buoni quindi godiamocelo perché davvero è un fighter atipico estremamente divertente da vedere secondo me sì diciamo che a livello di talento è quasi un unicorno in UFC perché sostanzialmente un fighter che fa due cose che sono due occasionalmente qualche pugno tanti calci rotanti tanti question mark kick e i manari roll così quasi a muzzo comunque ogni occasione cerca sempre di farli può sembrare uno stile di lotta insomma strano o assurdo ma di fatto è uno stile di lotta che gli permette di imporre ritmo alle contese e mettiamo anche che questo Darren Elkins insomma sia veramente agli sgoccioli insomma un fighter che si fa mettere il knockdown a volte anche due in un solo round da un fighter che si ha fatto dei progressi ma non è propriamente un puro strike come Ryan Hall fa riflettere però dall'altro canto appunto il merito di Ryan Hall di aver affinato questo stile un po' particolare come particolare è anche un po' il suo atteggiamento proprio a livello di personaggio insomma sempre molto sempre molto distaccato anche qualche tic un po' nervoso che lo fanno sempre queste scrollate di spalle quando vince c'è una gif in particolare su Reddit che girava appunto di tutti i suoi match vinti in UFC ogni volta che vinceva una decision fa sempre questo gesto scrollate di spalle questo sguardo un po' così è sempre un po' molto sorpreso che può ricordare insomma Jim di The Office americano oppure Toruliano per gli appassionati della New Japan per il wrestling sempre un po' così un po' così come un passante assorto che dice ah ho vinto ah beh sì sì ho vinto va bene così poi quello sguardo quasi assente ogni tanto l'uomo che non ci colpa è lui l'uomo che non ha colpe praticamente lui non c'entra è quello che guardava da fuori non rende merito comunque a una persona che insomma nelle interviste dimostra sempre di essere particolarmente arguta insomma veramente un personaggio low key della UFC come non se ne vedono molti sia appunto per quello che dimostra di fare dentro l'ottagono sia appunto per quello per come si esprime fuori dall'ottagono altro nome nei preliminari di cui abbiamo parlato in precedenza su cui c'era insomma interesse per la lunga assenza dalle scene dovute principalmente alla gravidanza è stato quello di Giuliana Pegna che giusto nel primo round soffre un po' il ritorno all'azione un po' di ruggine nella sua performance contro Nico Montagno concedendo insomma la supermerzia fisica nell'ambito del wrestling e del takedown appunto alla ex campionessa della flyweight division col passare dei minuti però abbiamo visto una Venezuelan Vixen che ha ripreso confidenza dal punto di vista mentale e fisico e in particolare in alcuni istanti in grand and pound si è riproposta per la fighter pericolosa sotto diversi aspetti quali avevamo conosciuta in passato sicuramente guarda Nico Montagno ha avuto la fortuna la fortuna se vogliamo perché poi la fortuna è relativa ovviamente in sport come questi di partecipare al giusto The Ultimate Fighter a riuscire a trascinarsi fino alla fine in maniera anche buona direi e a vincere poi la finale appunto e quindi ad essere incoronata prima campionessa flyweight di categoria però secondo me molto sinceramente ci sono avversarie più forti delle varie Murphy della Rosa e Modafferi che lei ha battuto Giuliana Pegna pur con tutta la ruggine e l'eventualità del caso dopo essere rientrata dopo una gravidanza lei che era una fighter da top 5 già da prima aveva perso con la Shevchenko per arm lo che ricordo e le ha dimostrato che comunque ci sono livelli in questo sport e che lei comunque può essere di medio alto livello ma non è di livello elitario in questa categoria sicuramente questo è quello che penso poi fondamentalmente ha tenuto bene botta alla pegna ma questa non è stata sicuramente la migliore pegna che abbiamo mai visto anzi secondo me avrebbe potuto anche finalizzarla nella migliore delle ipotesi non è stato questo il caso perché comunque la montagna è una fighter dura relativamente esperta perché comunque sempre in 7 match di questo livello ci si riesce ad abituare a capire se comunque lo standard è quello giusto e comunque la montagna non è l'ultima arrivata e seppur non appartiene probabilmente all'elite di categoria è una buona fighter che può competere in UFC sì tenendo conto insomma comunque entrambe delle fighter una 29 anni la pegna l'altra montagna 30 probabilmente hanno dei loro appunto dei loro limiti eventualmente eventuali livelli che non potranno raggiungere però insomma qualche passetto lo possono fare e in avanti lo possono ancora fare e in particolare la pegna insomma ha un po' di tempo da recuperare insomma per la sua assenza può effettivamente risalire insomma piano piano nei piani alti dalla Bantamweight division gli altri risultati insomma dell'evento giusto da ricordarvi altre due decision Light Heavyweight John Allen Batte e Michael Rodriguez predecessi in unanime 29-28 29-28 30-27 insomma contesa relativamente anonima con insomma discreti talenti ma niente di particolare da segnalare il primo match della serata a dire la verità si abusa molto della parola furto scandalo risultati dei match questo risultato la decisione anonima 29-28 29-28 29-28 che ha premiato Benito Lopez contro Vince Morales è stato un po' un mezzo fruttarello a dire la verità insomma io onestamente ho visto Vince Morales averla meglio in generale di Benito Lopez che più che con i calci insomma con la minaccia dei calci in particolare il calcio alle gambe e il calcio al corpo non ha offerto molto rispetto invece a un Morales molto più puntuale nelle sue combinazioni di pugni tenendo conto appunto che ha portato a casa anche diversi knockdown come l'hai visto tu questo match in apertura beh Morales si è concentrato molto sulla parte superiore del corpo di Benito di Benito Lopez lo ha raggiunto più e più volte Lopez invece ha puntato più che altro fra il corpo e le gambe ha iniziato a colpire di low kick in maniera anche abbastanza aggressiva ha subito probabilmente i colpi migliori che invece sono stati sferrati appunto da Morales che ha raggiunto Lopez più e più volte nella zona del volto nella zona del corpo e comunque probabilmente ha anche occupato meglio l'ottagon si è imposto fisicamente pur essendo più piccolo è riuscito a pressare il suo avversario fino ad attaccarlo quasi a parete in certe occasioni quindi sì potrei essere d'accordo con te poi probabilmente i giudici appunto hanno visto il fatto che in termini di counter striking di rientri i low kick di Lopez potevano fare più male magari dei colpi alla parte alta del corpo da parte di Morales vedi sono match molto molto sul filo del rasoio questi probabilmente una vittoria dall'altro lato anzi sicuramente non sarebbe stata scandalosa però sono match diciamo che possono andare da una parte o dall'altra senza che ci si possa poi fare molto beh no sicuramente una volta che ci sono queste decision come ben sappiamo insomma i margini di correzione sono abbastanza relativi anzi sostanzialmente nulli per l'indicazione insomma del parere generale stavo dando un'occhiata a me meno nei decision tra i media sostanzialmente c'è stata uniformità a confronto di Morales o con 29-28 o con 30-28 o 30-27 e anche Tarifan insomma la maggior parte si è schierata o dalla parte del 30-27 o dalla parte del 29-28 insomma qualche granchietto qui i giudici forse l'hanno un po' preso chi invece appunto in chiusura dell'analisi di questa card non ha avuto insomma non ha corso questi rischi di lasciare tutto nelle mani dei giudici ha chiuso la contesa quasi in prossimità della fine dopo 3 minuti 54 secondi della terza anno è stato Jonathan Martinez che ha avuto la meglio insomma di un fighter abbastanza resistente insomma che ha retto insomma il peso di questa contesa come Pinguan Liu portando a segno una ginocchiata sinistra al volto che appunto ha chiuso la contesa in favore appunto del fighter Martinez allenato da uno dei migliori coach negli ultimi tempi Mark Montoya di Factory X il tempismo giusto la finestra giusta Martinez l'ha trovata e ne ha approfittato subito davvero ma poi peraltro il fighter cinese Pinguan Liu stava combattendo benissimo fino a quel momento sarebbe stato davvero un problema anche per i giudici secondo me è arrivato a un certo punto perché il match era virtualmente davvero in parità poi quel movimento laterale avrà spinto Martinez che aveva aggiornotato appunto questo vezzo da parte del suo avversario di aprire sempre da quel lato e provare a incrociare col braccio opposto lo ha raggiunto con quella ginocchiata perfetta c'è pochissimo da ridire ha tolto ogni dubbio io credo che abbia messo veramente abbia messo un colpo spettacolare e concreto che è la combinazione migliore per vincere un match perfetto assolutamente una ginocchiata che gli è valsa 50.000 dollari dal performance of the night premio che ha condiviso appunto con Fever e Revit e Fili insomma ginocchiata ginocchiata d'oro potremmo definire sotto diversi punti di vista perfetto direi di passare in rassegna brevemente gli altri eventi in particolare Bellator 224 che si è svolto tra venerdì e sabato con il benevento Giulia Budd che ha difeso la cintura di Women's Featherweight sconfiggendo Olga Rubin per TKO dopo 2 minuti e 14 secondi nel primo round anche qui in linea con quello che poi sarebbe successo nell'evento UFC alla prima occasione utile una volta prese le misure della sua avversaria rispinta nei suoi tentativi di attacco calcio perfetto alla bocca dello stomaco è stato sufficiente per piegare le difese della contendente al titolo da lei detenuto e successiva ginocchiata e la scarica di colpi che a corredo sono state semplicemente i condimenti di un piatto ben preparato di una portata ben preparata appunto da quel perfetto calcio che permette appunto alla Bad di continuare a vincere l'ultima sconfitta risale addirittura al 2011 contro Ronda Rouse e i tempi dello Strikeforce qui insomma è un'altra situazione abbastanza diffusa come abbiamo visto in UFC nelle categorie femminili mancando le avversarie queste fighter che hanno l'esperienza e il talento per emergere di fatto comandano per lungo tempo finché non trovano qualcuno più forte di lei e alla Bad alla Bad restano sostanzialmente due sfide o quella che vorrebbe fare contro Gabi Garcia in Giappone sarebbe molto curioso vedere questo tipo di sfida insomma che ci siano dei contatti comunque Scott Coker ha parlato di un'eventuale copromozione di un eventuale evento insieme a Rising da organizzare in Giappone e quindi questa potrebbe essere una delle sfide che ci potrebbe aspettare oppure eventualmente una cyborg in uscita dalla UFC però di fatto Giulia Budd tra l'altro in una categoria in generale nelle Mixed Martial Arts abbastanza povera appunto di numero di atlete come Featherweight è una delle migliori c'è niente da fare sicuramente è una delle migliori io non credo comunque che UFC si farà scappare cyborg perché hanno ancora dei piani per lei secondo me avevo sentito di Scott Coker che voleva organizzare questo match cioè che aveva intenzione di parlare quanto meno per questo match la Bud è sicuramente al di fuori di UFC è la donna più forte che c'è in circolazione poi comunque in carriera ha perso soltanto a inizio della sua carriera contro Ronda Rousey Amanda Nunes quindi è assolutamente una delle fighter più forti che ci siano in circolazione come hai detto tu la povertà di talenti in questa categoria magari può penalizzarne il proseguo della carriera però perché no un fantamatch con Gabby Garcia lo immagino bene e lo vedrei davvero altrettanto bene e ricordo peraltro che sia che Giovanni ci siamo espressi insomma mi hanno dato le nostre impressioni su Bellator 224 un articolo sul sito di Bellator Italia volete leggere insomma lo potete trovare oppure sulla nostra pagina scrollando appunto tra i vari post in breve appunto Giovanni nella main card Raffaele Carvaio in un catchweight a 190 libere porta a casa una decision giusta nella sostanza e nel conteggio dei cartellini di 29-28 29-28 29-28 contro Cidi Giucquani portando la casa quasi prevalentemente diciamo quasi sul wrestling comunque sulla capacità di imporre la propria fisicità lungo parete e nel non correre rischi contro uno stalker che soprattutto nel secondo round comunque ha dato mostra della sua pericolosità appunto come Giocquani soprattutto con i suoi calci Giuliana Velasquez che sostanzialmente si guadagna la title shot contro Elina Leigh McFarland con una ottima prestazione contro Christina Williams appunto altra fighter che ha saputo imporre il proprio ritmo il proprio game plan sulla contesa e alla prima occasione utile al primo affondo particolare con rapide combinazioni al corpo a parete lungo parete ha riuscito appunto a piegare definitivamente le resistenze della Williams io ritorno alla vittoria dall'inapertura di main card di Heather Ruth che primo round assolutamente si confronta prende le misure anche qui si adatta insomma cerca di capire come affrontare in piedi un fighter abbastanza duro difficile da esperto e difficile da finire come Kunimoto mostra qualche miglioramento in particolare nella capacità di colpire in diverse stance diverse guardie ortodossa o southpaw comunque di mancina cercando insomma di affinare soprattutto un jab che in alcuni momenti è andato a segno nel secondo round un po' come Martinez alla prima occasione utile su un avvicinamento dal tempismo non perfetto di Kunimoto Ruth tira fuori una ottima ginocchiata che incoccia sulla testa di Kunimoto e appunto costringe il giapponese ad arrendersi segnalo la prima sconfitta per KO addirittura dal suo debutto nell'MMA nel 2006 Dieter Ruth è riuscito a fare un qualche cosa che Kunimoto non ha mai vissuto nella sua carriera e questo è sicuramente un piccolo merito per la sua giovanissima carriera appunto del fighter americano tra main card e preliminary card breve le tue considerazioni ciò che sostanzialmente ti ha colpito di più sì sì a me proprio Ed Ruth è stato quello che ha colpito di più grandissimo wrestler lo conoscevo per essere un grandissimo wrestler ma qui a sorpresa anche per controllo delle distanze per imposizione fisica su Kunimoto che comunque era un fighter che aveva un record in positivo anche in UFC quindi ci parliamo assolutamente di un fighter valido non dell'ultimo arrivato e adesso guarda io già non vedo l'ora di rivedere Ed Ruth che è stato quello che mi è piaciuto di più probabilmente in card e credo abbia un buon futuro ecco assolutamente poi Carla Pennimini giusto da citare cessi di vari fighter che in particolare due fighter che si sono adattati un po' come Ed Ruth da discipline diverse effetto all'MMA parliamo nello specifico da Gaber Varga che vince per TKO contro James C. Taylor a seconda dopo 3 minuti 23 secondi Gaber Varga più noto insomma come un kickboxer di tanti grandi successi insomma che raccolto tanti titoli tante affermazioni a kickboxing e che si sta dedicando appunto con successo anche alle Mixed Martial Arts stesso discorso ma applicato nell'ambito del BJJ per AJ Agazzar assoluto fenomeno del Brazilian Jiu Jitsu americano che vince per submission a Ryan Naked Choco dopo 4 minuti 21 secondi contro Jacob Landin segnalo anche forse il match più equilibrato e più divertente quasi dell'intera card è stato quello tra Leslie Smith e Sinead Kavanagh il ritorno di Leslie Smith dopo ben due anni di inattività con insomma la sua addio un po' polemico con la UFC con la sua attività sindacale per così dire insomma per la sua attività per cercare di creare un sindacato dei fighter Project Spirit che insomma oltre appunto ad altri problemi natura fisica insomma le ha un po' bloccato la carriera in un modo o nell'altro al suo debutto in Bellator torna a essere insomma la fighter che è abituata appunto alle battaglie come non se ne vedono spesso in questo modo insomma nelle categorie femminili appunto con il suo stile di lotta senza compromessi sempre in avanzamento ha dato vita a una bella sfida contro l'irlandese Sinek Kavanagh un derdetto decisione per maggioranza che ha premiato la Leslie Smith 28-28 29-28 29-28 sono sui vari canali di commento sui social su Twitter in particolare insomma un po' di dibattito su questo cartellino alcuni hanno visto la vittoria della Kavanagh che effettivamente si è ben distinta per la sua efficacia dello striking soprattutto in controattacco in generale comunque al di là del risultato una contesa che se avete qui 15 minuti da perdere se volete vedere insomma una sfida abbastanza semplice da vedere insomma facile da gustare soprattutto per i amanti dello striking insomma una sfida che vi invito a recuperare sull'app di Bella Torra l'altro evento che ha caratterizzato il weekend in particolare per l'MMA in particolare insomma per gli combat sports italiani è stata la carta di One Masters of Destiny nella quale i risultati più significativi i match più significativi sono stati il come l'event con la seconda sconfitta di Angela Lee che deve inchinarsi al straordinario jiu-jitsu di Michel Nicolini che appunto porta a casa la vittoria per decisione unanime dopo tre round non che Angela Lee di per sé si sia comportata male a terra che comunque è il regno della un altro fenomeno assoluto del BJJ compagnolo Nicolini però di fatto ha concesso insomma maggior controllo all'avversaria ha fatto di tutto insomma per o per riportarsi in piedi o rovesciare le situazioni o soprattutto nell'ultimo round proprio il limite era addirittura arrivata vicina ad applicare una rena che ciò della stessa Angela Lee però nonostante i suoi sforzi insomma non è riuscita a sovrastare la brasiliana nel suo ambito preferito non è riuscita d'altro canto a imporre sua maggiorabilità nello striking e se vista costretta a consegnare un referto rosso nel suo record il secondo di fila e vedremo appunto a ottobre avrà una difesa del titolo già fissata insomma vedremo se quella sarà per la cintura strawweight vedremo appunto se sarà quella l'occasione per tornare alla vittoria torna invece la vittoria dopo insomma un primo match discusso di cui avevamo parlato appunto anche io e te Giovanni nel precedente episodio dei miei talks podcast Giorgia Petrosian per le parenti sulla kickbox che sostanzialmente controlla fin dall'inizio alla fine la contesa sui three round contro Pech Morakot in questo caso invece insomma nonostante gli sforzi del fighter tailandese di far male soprattutto nel ravvicinato con diverse ginocchiate e in parte un po' di provocare insomma di suscitare la reazione di far distrarre togliere concentrazione mentale a Giorgia Petrosian Petrosian ha mantenuto il focus sul match e avanza con un successo meritato nel torneo appunto di kickbox della promotion asiatica in chiusura programma del weekend la UFC propone una card a San Antonio e nel main event presenta la sfida tra Rafael Dos Anjos e Leon Edwards Giovanni insomma ti chiedo come vedi questo match e eventualmente chi vince questo è un match davvero davvero interessante non è un match dal risultato sicuramente semplice perché Leon Edwards comunque è cresciuto parecchio nell'ultimo periodo è stato più discusso per la fighta con Jorge Masvidal dopo il match con Trutille che peraltro però rimane sicuramente un fighter estremamente pericoloso ed estremamente evoluto rispetto alle sue prime apparizioni non è spettacolare come il fratello che combatte in Bellator Fabian però è molto molto più concreto è di un livello sicuramente superiore Vanta vittoria ad oggi praticamente in USA ha vinto contro tutti meno che con con Kamaru Usman e molto prima con Claudio Enrique da Silva che ha perso soltanto all'esordio praticamente e poi ha punti contro Usman poi ha inanellato vittorie contro chiunque praticamente ha battuto tutti quelli che ha affrontato figurano nomi come Gunnar Nelson Donald Serroni Peter Sobotta Brian Barbarena Vincent Luque chi più ne ha più ne mette è sicuramente un top fighter è un fighter se non da top 5 sicuramente da top 10 in questo momento combattere contro Rafael Dosagno se eventualmente dovesse vincere gli permetterà appunto di andare a combattere in quella tanto agognata top 5 io c'è da dire che in questo momento se dovessimo vedere le migliori versioni dei due atleti vedrei favorito Rafael Dosagno per via dell'arsenale ampio e dell'adattabilità nelle diverse aree del match però Edwards ha sicuramente le sue possibilità di vittoria e staremo a vedere come andrà il match ecco noi avevamo commentato dal rilancio del podcast la performance appunto quella contro Kevin Lee e abbiamo parlato molto bene appunto di come Dos Anjos avesse assolutamente neutralizzato in particolare quella che poteva essere una minaccia quella del wrestling che ha patito effettivamente contro fighter che wrestler lo sono e lo sono ad altissimi livelli appunto come Cameron Rusman e Covington quella offerta di wrestling proposta da lì non è stata sufficiente per mettere in difficoltà e anzi Dos Anjos poi ha superato quella contesa portando a casa la vittoria per Ram Triangle in quale aspetto Leon Edwards può effettivamente mettere in difficoltà questo Dos Anjos o perlomeno Dos Anjos che abbiamo visto contro Camille soltanto dal punto di vista dello striking e del controllo delle distanze sicuramente non dal punto di vista del ritmo quanto dalle combinazioni in e out dalla guardia del brasiliano questa secondo me è l'unica soluzione che Leon Edwards può praticare perché se i due comunque arrivano in grappling io credo che Rafael Dos Anjos sia ad un livello diverso rispetto a Leon Edwards anche se Rocky sa benissimo farsi valere ma soprattutto sa tenere il match in piedi quando vuole quindi secondo me è un match che esibirà un po' le migliorie di entrambi i fighter ed esporrà anche magari i loro errori perché qui secondo me ci sono poche possibilità di una finalizzazione all'interno di cinque round e andrà più che altro ai punti un match del genere se tutti e due i contendenti si presentano nelle migliori condizioni nel resto della card in particolare della main card tre sfide ad heavyweight nel conveniente Alexei Olenek contro Walt Harris diciamo a riduzio grappler contro striker perlomeno questi sono gli aspetti principali del loro game plan anche se comunque Olenek tutto sommato controversare contro striker non particolarmente voluti può dire la sua e Harris invece punterà molto su quel stesso aspetto il ritorno in azione di Greg Hardy che Juan Adams vedremo se Hardy nel frattempo ha fatto dei progressi insomma dal punto di vista del cardio dell'esistenza e della varietà del suo game plan in apertura Andrea Arlowski contro Bento Roswell insomma per la Legends Division della UFC credo che sia quasi una sfida a eliminazione per certi aspetti tenendo appunto conto anche che Arlowski è in una striscia prolungata di sconfitte per sconfitte con una no contest in mezzo appunto con lo stesso Volteris insomma da dentro fuori questa sfida ma sì ma anche da parte di comunque di Ben Rotwell che nonostante secondo me abbia vinto il suo ultimo match contro Blago Ivan è stato un po' troppo penalizzato secondo me Rotwell non era tornato alla grande contro Junior Dos Santos diciamo che lo stop a lui invece non ha fatto per nulla bene perché cavalcava una striscia di quattro vittorie consecutive aveva messo KO da Brandon Vera l'ister over in mettere giù Josh Barnett e poi si è visto crollare anni dopo contro Junior Dos Santos ai punti non ha poi superato la prova Blago Ivan in maniera sicuramente convincente quindi sì può essere un match da dentro fuori per entrambi i contendenti comunque la card rimane ampiamente interessante ci sono diversi ritorni come quello ad esempio di Seymalve che affronterà Clidson Abreu o come anche quello di nuovo di Alex Casares contro Steven Peterson particolarmente ti direi che i match tra James Vick e Dan Hooker Alexander Hernandez e Francisco Trinaldo sono quelli che mi interessano e che mi attirano di più i match più tecnici dai fighter dal livello più simile diciamo specialmente nel caso di James Vick vedere come tornerà contro Dan Hooker che comunque rimane sempre un avversario molto molto pericoloso stessa cosa per Alexander Hernandez Francisco Trinaldo è un gatekeeper dei piani superiori sicuramente è riuscito in imprese secondo me nella sua carriera poi a 40 anni ancora offre un livello davvero davvero alto quindi se tanto mi da tanto secondo me questi due match sono quelli candidati a Fight of the Night nonostante ci siano comunque numerosi match fra i pesi massimi e il main event che è un match di tutto rispetto secondo me questa card è una di quelle che nascondono tantissime tantissime perle va assolutamente eseguita anche il ritorno ad esempio di Ray Borg contro Gabriel Silva che è imbattuto è un giovane brasiliano di 24 anni imbattuto proveniente dall'LFA ecco c'è da considerare questa card secondo me come una delle card più importanti passate in sordina quest'anno sì sì assolutamente anche aggiunta due match nelle categorie femminili con un discreto interesse Roxanne Mondaferri sfida nuovamente Jennifer Maia si erano già affrontati in passato questo sarà un rematch Mondaferri che viene in particolare dal successo contro Antonina Sevchenko e Raquel Peniton contro Rinaldana che sapendo due fighter che non disdegnano le slackfest può effettivamente candidarsi anche a modo suo come fight of the night appunto se riusciranno a scatenarsi con le mani ultimissima cosa abbiamo aperto questo podcast parlando di un fighter italiano che torna alla vittoria ci sono state nelle ultime ore notizie che ha riguardato altri fighter italiani in particolare di match che sono stati fissati per loro parliamo nello specifico di Alessio Di Chirico e Alenor Medoschi che tornerà in azione nella stessa card quella a Copenhagen Alessio Di Chirico affronterà Peter Sobotta Alenor Medoschi invece i gallese John Phillips e in aggiunta anche altro match di cui si è parlato e che è diventato poi ufficiale per il 2 agosto invece a One Championship Dono Firos Mauro Cedrilli contro Arian Bullard ex fighter UFC che appunto farà il suo debutto in One contro l'italiano per sfide a loro modo interessanti oltre al fatto appunto che ci interessano anche solo per il fatto che riguardano gli italiani sì esatto anche solo per il fatto che ci riguardano che ci riguardano direttamente appunto da tifosi io credo prima di tutto da fan dei nostri fighter in giro per il mondo e comunque in particolare un ritorno sia di Alessio Di Chirico comunque dopo quella sconfitta controversa il momento giusto anche di rientrare per Alenor Medoschi che deve dare un po' una scossa dopo l'esordio difficile contro Christophe Giotto e poi c'è comunque Mauro Gerilli che viene da una grande vittoria contro The Panther Galani e adesso avrà modo di dimostrare ancora di essere fra i migliori fighter nella categoria dei massimi in 1FC sicuramente dei ritorni molto 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 apprezzati al momento giusto direi tra l'altro appunto con la card del 2 agosto che vedrà in azione Martin Guyen che definirà il titolo featherweight contro Koyome Matsushima Edward Foley anche Eddie Alvarez che rientra nel torneo lightweight dopo il ritiro per infortunio di Timofei Natsukin e il ritorno in azione sempre un altro di The Motors Johnson nella semifinale del titolo del torneo flyweight contro Tatsumis Wada quindi insomma altra card ricca di nomi interessanti anche a occidente oltre appunto al fatto della presenza di Mauro Cerilli direi a questo punto insomma abbiamo esaurito sia il passato e il futuro che ci aspetta in parte insomma nel mondo dei mix martial arts direi che possiamo passare i saluti da questa parte del microfono Stefano ciao a tutti e ciao a tutti anche da Giovanni ci sentiamo alla prossima e al prossimo episodio con Omei Toast